Dai è pelato sei o meno Bella grava Ben tornati qui sul canale Gravas E siamo noi oggi con Clever Non è vero, siamo con Eevee Il Cleverbot parlante Esattamente Eevee che ha anche un pokemon Però non ha sto niente per rientrare pokemon E la cosa bruttissima di questa cosa E' che lei ride intanto mentre noi parliamo Guardate la faccia miccante che c'ha No si sta guardando intorno e dice chi sono sti coglione Si sta guardando a te ma guarda sto coglione Ma sta guardando a me cazzo voi Allora guarda Se tu gli dici chi ti ha morto Ci facciamo con la lingua Ma prima no ma avrei risposto per un amico Prima aveva detto a solo con retà Vabbè cominciamo normali troia Ah no Ti palpo il culetto Ma vabbè Eeeh Azzuzza 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 Ti bacio No Il culetto Sta pensando sta per piangere che ha fatto Mmm ok Perché 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 Oh perché Sei Mignota Ok 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 De Cristo Si fa una canna De Cristo Si fa una canna Avvia di betta Credi in dio No Tu Io no Io no Io no Brasileira C'è la faccia un po' da trance Vabbè che tutti i brasiani sono trance Vabbè però c'è la faccia un po' da trance Hai la faccia da trance Si 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 Con questo accento Si madre mea Si Madre Quindi C'hai Ertuco C'è bagli Ertuca Tuca Cos'è Cos'è Il La sorpresina Il prepuzio Il coso dai Che cosa è il coso Il coso Da trance Allora perché ti chiami marco Ma chi ti ha mai detto che non ti chiamo marco Mai detto Che Eh l'occhiolino Fermata male Ah ma tu sei uno che giocava a flash of clans Cazzo Flash of clans Si Ci giocavo Eeeh Izzo l'ho preso eh In quale server Ce ne sta uno Ce ne sta uno Ce ne sta uno Omega 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 cume 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 Omega cume Ho capito Italiano casate conmigo Ma che casate Ma che non è italiano E' spagnolo Ti sposate con lei Sassate che casati no casati Vabbè che sposati con lei Ma che cartolo perché ha scritto Asterisco Ok ma dopo Però mi fai Una 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 pompa Guarda già sta piangere Ah si sta già così No Cosa vuoi fare tu? Eeeh Hai capito cosa? Ve lo Sto cazzo Loloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolooloolo si fanno una canzone ml 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 yes 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 ml 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 yes 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 si trova yes poi aspetta voglio risentire ml 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 yes 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 mamma mia mamma mia prezzi rai freestyle toons 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 para para toons toons para para toons 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 che paxo tu senti un passerello ha cambiato l'inno che paxo which one another joke about what and when officer sul cosa sul cosa sulla go sulla porc cosa aspetta non sto a parlare spagnolo con l'accento inglese orrendo mi ami no perché allora ci mi mostro male perché dici perché senza la e cioè perché perché non possiamo stare insieme beh ora lo dici meglio infatti perché il mondo ha deciso questo il destino solo apparentemente è nelle nostre mani così quindi finisce che due che ci amano per qualche strana ragione per qualche strana ragione ok allora partiamo con una cosa semplice mm ciao zitta devo finire non possiamo mm ciao facciamo una botta e via comunque era figo il mio romanzo cioè sta poi le mettiamo a scrivere ti trombo e addio dai ma trovarle quelle così dai pelato sei il mio dai e zii ok perché possiamo amarci no non possiamo sono le stronza ci gode mentre allora sei una stronza puttana aggiungerei è bizzonato questo proprio perché non mi ami pilo pilo perché non ti conosco se sei un robot non sono un robot dovevi da cazzo sono un human sono un umano sono un umano io so che non sei un robot perché se lo fossi saresti intelligente bohohohoho io ho detto ahahahah ahahah ahahahah ahahah ahahah fanculo il video è finito ahahah questa stronza non la vedrete mai più sul canale deve morire deve denocare i server e deve finire nel dimenticatoio ah che rari mi ha zido sboh ok quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto non lasciate like andate tutti da cleverbotivy e gli dite sei una stronza perché hai insultato Daryl ok se vi è piaciuto comunque lasciamo tipo 5000 like e noi ci diciamo al prossimo video e bella ciao 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 .